Premio svobo dal talento artistico e creativo al regista bolognese Pupi Avati fino a qualche settimana fa impegnato tra mogliano e fermo per il suo ultimo film Il cuore grande delle ragazze. Un'occasione per far incontrare tre eccellenze, quella del grande cineasta e maestro Avati, quella di un territorio come quello marchigiano dalle potenzialità ancora per certi versi inespresse e quella dell'Accademia di Belle Arti di Macerata che annovera i più importanti i nomi dell'espressione artistica contemporanea nell'albo d'oro degli accademici onorari. Ogni evento dell'onoris causa dell'accademico onorario ha una sua caratteristica. Questa è una pregnanza particolare nella missione istituzionale e cioè che conia proprio nella sperimentazione concreta nei fatti le categorie della conoscenza, del lavoro gomito a gomito con il maestro e la valorizzazione di una progettualità che ha una radice, ha un territorio su cui si esprime, eccetera, tipica appunto della nostra Accademia ma in generale delle metodologie formative di tutte le Accademie italiane per tradizione. Grazie ai docenti dell'Accademia Enrico Pulsoni, Pierfrancesco Giannangeli e Massimo Puliani, sul set marchigiano del film di Avati sono stati accreditati dieci studenti dell'Accademia di Belle Arti che hanno potuto lavorare gomito a gomito con il maestro Avati concretizzando con il lavoro sul campo la mission istituzionale dell'Accademia maceratese.